Capisco che il discorso può diventare retorico, perché poi ci si scontra con le banche, poi ci si scontra con i creditori, con i fornitori, con la difficoltà di accesso anche alla subfornitura. È chiaro che l'imprenditore oggi è una persona che deve avere una formazione, una propensione al rischio, una cultura di impresa che è nettamente superiore a quella che magari veniva richiesta 30 anni fa. Oggi l'imprenditore deve saper parlare inglese, deve essere al ritmo che oggi viene richiesto. Oggi non conoscere la lingua inglese, e probabilmente molti di noi hanno studiato a scuola il francese perché è ancora il retaggio di un certo modo, di ragionare anche di una cultura post-unitaria. I Savoia erano francesi, parlavano francese, eccetera. Quindi questa cultura noi la dobbiamo modificare. Nei prossimi cinque anni, e non lo dico io, ci sono studi purtroppo molto precisi, le piccole e medie imprese a livello nazionale diminuiranno di 20.000 unità. Al contempo, in questi cinque anni, il commercio elettronico aumenterà al tasso del 10% ogni anno, non del 10% nei cinque anni, ma del 10% ogni anno per i prossimi cinque anni. Quindi un mondo a livello di distribuzione che sta velocemente cambiando, con le nuove generazioni che sono molto più abituate ad acquistare con un click piuttosto che acquistare, con quella, io dicevo l'altra volta, magia che si può riscontrare nel contatto diretto con il negoziante, con il toccare la merce che si intende acquistare. Io penso che bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa, cioè la individualità oggi non paga più, ma non paga più né a livello di imprese né a livello della rappresentanza. Mi spiego. Noi dobbiamo cercare di marciare assieme rispetto a un progetto per obiettivi breve, medio e lungo termine che assieme individuiamo, dove, alla fine, uniti nella diversità di ruolo, di funzione, cioè dove tutti siamo chiamati, tutti gli attori ad esprimere la propria... Quanti tavoli di concertazione oggi si fanno? Niente. Perché è una strada che non si sceglie più, è una strada, è un sistema che qualcuno l'ha fatto passare come un sistema vecchio. Quello è stato, dal mio punto di vista, ed è un tema che va ripreso, va ripreso con grande forza. E qui viene subendo il tema della rappresentanza, cari amici. Non c'è solo un problema dell'impresa, c'è un problema anche di chi ti rappresenta e come ti devo rappresentare. Perché è giusto, perché l'imprenditore si pone un problema. Oggi qual è la validità di essere soci di un'associazione di imprese? Non sono tanto le infrastrutture che abbiamo il gap che è così, diciamo, abissale rispetto al nord. Io ritengo che sulle infrastrutture, proprio per anche alimentare e fare modo che cresca l'edilizia, noi dobbiamo puntarci. Soprattutto, per esempio, quelle che sono le strade, le autostrade che mancano e che noi non abbiamo l'unica provincia d'Italia che non ha l'anello autostradale, è la provincia di Grigento. Dovremmo fare il collegamento, sarebbe necessario, per esempio, Castelvetrano, Gela.